Peter Bayou, ex ministro per la cultura e il turismo nella regione della Sierra Leone, che è il Coina Dugu, questa sera sarà qui per rinsaldare il rapporto molto importante con l'Associazione Africa Amica. Sono qua oggi per dire grazie a tutti i membri dell'Associazione Africa Amica, ma anche ai loro sostenitori, ma soprattutto alla cittadinanza retina, per averci dato una mano per sconfiggere Ebola. L'Associazione Africa Amica che ci ha mandato materiali radiofonici per poter raggiungere i villaggi, per sensibilizzare i villaggi. Ad oggi la situazione come si presenta in Sierra Leone? Allora, proprio con l'aiuto dell'Associazione Africa Amica, anche di altri aiuti, noi nella nostra regione di Coina Dugu abbiamo avuto i casi limitati di infettati e di morti. Adesso la guerra contro Ebola continua, ma sta finendo. L'Associazione Africa Amica accoglie Peter Baiucu. Qual è l'importanza di tenere ben saldo questo collegamento tra Sierra Leone e Arezzo? Noi abbiamo con Peter una lunga e consolidata amicizia e collaborazione che si è intensificata soprattutto in questi ultimi tempi, in particolare per la vicenda Ebola rispetto alla quale ci siamo adoperati. Il progetto lo stiamo confezionando proprio in questo periodo, entro l'anno sarà pronto, faremo forme pubblicitarie, daremo segnali. È un progetto risolutivo, nel senso che con questo progetto riusciremo a dare intanto l'energia elettrica ad un ospedale che non ce l'ha e poi a garantire una sorta di continuità assistenziale attraverso la presenza di personale medico e paramedico. Grazie. 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 Grazie.